Buongiorno a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Ormai siamo sotto le feste, l'anno sta finendo per cui è tempo di iniziare a pensare ai programmi per il prossimo anno. Sicuramente tornerò a elplorare la Svizzera, tornerò in terra elvetica, per cui mi sono già portato avanti. Ho acquistato anche per il 2022 la vignetta autostradale, che quest'anno è viola. Per chi non lo sapesse, per viaggiare sull'autostrada Svizzera serve acquistare questo riconoscimento. Il costo è di 40 franchi, come gli anni scorsi, per cui non è cambiato nulla, che sono circa 37-38 euro. Vi ricordo che la vignetta è adesiva, va rimossa dalla pellicola e va appicciccata al parabrezza, altrimenti non è valida, per cui ricordatevi questo. È obbligatoria per viaggiare su qualunque autostrada Svizzera, non ci sono caselli, quindi basta solo acquistare questa vignetta qua. La validità vale dal 1 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2023, quindi vale ben 14 mesi. La potete acquistare nelle stazioni di rifornimento, oppure la potete prendere anche nella dogana autostradale. Nelle dogane normali, cioè sulle altre strade, non sempre la si trova. Si potrebbe trovare anche lì, ma non tutti ce l'hanno, per cui o in autostrada oppure nelle stazioni di rifornimento. Bene, quindi per oggi è tutto. Io vi auguro un Felice Natale e ci vediamo prossimamente. Ciao!